Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio Boselli, sono quarto remo della Sant'Angela Merici, che vedete di Bissa, di Desenzano del Garda. Allora, innanzitutto voglio ringraziare l'associazione AGA, che è la regione, che ci ha permesso appunto di partecipare a questo progetto che è molto interessante. All'inizio quando mi hanno contattato sinceramente non avevo idea di quanto potessimo far parte di questo gruppo. In realtà poi, parlando con Valentina, mi sono accorto che proprio ci siamo in pieno e sono molto onorato di far parte di questa ricerca. Mi sono accorto di questa cosa perché comunque siamo molto legati al territorio, portiamo avanti un progetto storico legato appunto all'aggregazione, c'è un scopo anche culturale, della storicità di questa attività che viene dal 1400, quando i veneziani sono venuti sul lago di Garda, tra l'altro anche qui ci si può ricollegare al viaggio perché i veneziani sono venuti sul lago di Garda con una operazione militare potente che è stata quella di arrivare dall'Adige e attraversare le montagne con le galee. Nella storia c'è questa missione che si chiama Galea Spermonte dove i veneziani hanno attraversato le montagne a Dirovereto per scendere sul lago con le galee a remi con barche pesantissime a 20-30 rematori, portandole con dei tronchi, hanno attraversato le montagne e poi sono scesi dal lago per attaccare a Lombardia per Milano nel 1438. In prima battuta hanno perso, poi hanno vinto, comunque da lì noi siamo stati contagiati perché comunque ci hanno portato questa tecnica di voga in piedi che è stata da prima presa presa dai pescatori, ne abbiamo qua uno storico, Nunzio, pescatore che porta avanti la tradizione che rema da 70 anni, quindi un rematore, forse il più vecchio, il più vecchio rematore del lago di Garda che mi ha insegnato tra l'altro questa attività meravigliosa. Stavo dicendo quindi i pescatori hanno iniziato ad utilizzare queste barche a fondo piatto, che era il vecchio bissone, per comodità anche per muoversi sulle reti, giusto Nunzio? Per girare bene sulle reti avendo il fondo piatto e tra l'altro appunto facilmente, cioè si poteva girare facilmente e passare sopra le reti perché non si aveva il rischio di incagliare la deriva o il fondo della barca. Dal bissone poi si è passati alla Bissa, quando appunto i rematori, gli amici dei vari paesi, delle comunità del lago di Garda hanno cominciato a formare dei gruppi di amici e ha iniziato a fare queste competizioni. È stata inventata questa barca che deriva dal bissone ma è più lunga perché è 10 metri e 60, è tutta in legno, molto leggera perché noi abbiamo un regolamento di stazza, deve essere in legno e pur essendo in legno pesa circa 130 kg. Sopra questa barca siamo in quattro rematori, due di destra e due di sinistra con un remo di più di quattro metri di lunghezza e praticamente che caratterizza questa attività è la sincronia delle quattro persone, cioè le quattro persone devono essere prima di tutto amici, devono essere persone che con una sintonia anche a livello psicologico e caratteriale, se no la bissa non va, non c'è proprio niente da fare, cioè se ci sono tensioni perché è molto sensibile, quindi è uno sforzo enorme però controllato e in sintonia, questa è diciamo la nostra attività. Ecco da allora, dalla storia hanno cominciato, ci sono penso dai primi del novecento giusto Nunzio che hanno cominciato a fare queste competizioni e noi portiamo avanti questo palio che tutti gli anni facciamo dalla prima settimana di giugno fino alla prima settimana di agosto tutti i sabati, giriamo i vari comuni del Lago di Garda dove vengono organizzate queste competizioni in notturna, quindi altra particolarità, noi ci alleniamo al buio, quindi usciamo tre volte a settimana tutto l'anno la sera senza luce usciamo in mezzo al lago, anche adesso ieri sera siamo usciti, abbiamo fatto allenamento fino alle nove e mezza, quindi ci alleniamo al buio perché le gare sono tutte la sera in serale per un fattore territoriale perché comunque il lago è fermo la sera quasi sempre, cioè è più facile trovare l'acqua ferma e i venti si calmano la sera e poi anche per le imbarcazioni, cioè la sera il lago si calma perché d'estate ovviamente ci sono tutti i battelli, imbarcazioni varie che dalle sette e mezza la sera in poi invece smettono solitamente di andare, quindi è più facile navigare perché comunque la bissa è veramente molto delicata, sono 10 metri e 60 per 80 centimetri. Ho parlato da solo. È interessantissimo questo tema dell'armonia e del silenzio, è qualcosa anche che ci parla del valore di queste pratiche in una società contemporanea che va veloce, dove tutto è comunque diciamo sempre sotto pressione e quando voi ci avete raccontato del vostro rapporto con la bissa e con il lago è stata veramente una cosa molto emozionante che abbiamo vissuto. Mi piacerebbe che anche Nunzio ci parlasse un po' di queste origini della pesca perché è ma due parole. Io ho iniziato a remare avevo 6-7 anni che facevo il pescatore, abitavo a Toscolano e poi da allora ho sempre fatto il pescatore fino a 25 anni, dunque per me la barca è una cosa che per me andare in barca e camminare in terra è uguale, per me sull'acqua non mi fa differenza. Dopo ho smesso di andare a pescare perché ho fatto sempre il lavoro di vendere del pesce così però la tradizione di andare sempre alle mani c'è sempre stata. Dopo abbiamo cominciato con le regate e ho fatto 44 anni di regate e ho remato un po' a Salò, un po' a Gardone, a Desenzano, poi sono andato a Salò, sono andato a Gardone, sono tornato a Desenzano. Mi cercano perché come tecnica io insegno bene, dopo chi vuole apprenderla bene la tecnica è tutta lì perché è molto difficile. Poi a Gardone Riviera c'è stato un periodo che abbiamo fatto 5 anni che si andava benissimo con la Foscherina di Gardone, abbiamo vinto sempre tutti i campionati e dopo sono tornato dopo la Gardone e tre si sono ritirati per via di lavoro perché non è che uno fa lo sport qui per guadagnare, lì c'è solo da rimetterci, uno lo fa così per passione. Allora dopo sono venuto qui a Desenzano, ho insegnato un po', siamo arrivati anche ai quarti qui a Desenzano in classifica, dopo perché c'è degli elementi che magari fanno un anno poi si ritirano, invece piorebbe continuare almeno per i due o tre anni perché a remare così in piedi è molto difficile e fino a che non prendi l'armonia giusta di remare molto bene perché queste barche sono tanto sensibili che se uno non so la schiaccia da qui la barca si muove facilmente e non ha la velocità che deve mantenere, allora è tutta una cosa un po' di equilibrio e di passione, dopo ci vuole anche la mentalità perché se uno si lascia un po' perdere perché quando ho vinto la Gardone gli dicevo guardate che certi alimenti non vanno mangiati quando si fa allenamenti, certe cose non vanno fatte se uno vuole arrivare a un certo livello anche uno stile di vita per arrivare a un certo livello però funziona lo stile funziona perché io ho già compiuto 80 anni adesso abbiamo messo giù la barca sì 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 siamo venuti qui a remi in due insomma in modo è una cosa che è molto, se uno ha passione lo fa dopo ci vuole molta passione perché altrimenti se uno non ha passione sì il remo però dice non si impegna perché è importante anche l'impegno perché lì non c'è paura di fare fatica la fatica bisogna farla se uno impara bene a remare la fatica la sente molto meno è tutta una cosa un po' così niente io passo la parola a Antonio le barche sensibili, l'armonia questa cosa di dover scaricare le tensioni prima di salire in barca magari ci dici due parole di questo perché è proprio un'armonia con l'ago che per me noi naturalmente stiamo tutti imparando tantissimo da queste esperienze ma è qualcosa di completamente nuovo cioè io non avevo mai sentito raccontare questa quasi come se fosse un pezzo di voi la Bissa cioè voi siete un tutt'uno con la Bissa e quando partite siete camminate sul lago non so come dire volate sull'acqua cioè è impressionante è impressionante questa cosa mi aveva molto colpito penso che come tu dicevi è anche uno stile di vita non è soltanto e mi piacerebbe che tu dicessi due parole sul legame a questi territori a questi paesi perché poi alla fine tu dicevi che insomma per te è molto importante anche questa sì è uno stile di vita anche perché coinvolge le persone i rematori a 360 gradi quindi in casa in famiglia quando uno intraprende questo sport questa attività un po' viene assorbito quindi viene compromesso anche l'equilibrio familiare quindi noi dobbiamo io che sono il capitano mi chiamano capitano devo anche cercare di mantenere questa armonia all'interno di tutte le famiglie dei vari rematori perché purtroppo mi sono reso conto che poi va se no va a discapito del gruppo perché comunque gli allenamenti sono tanti il campionato dura due mesi e mezzo prevede più allenamenti e il sabato la gara tutti i sabati quindi ovviamente devo anche combattere con mogli gelose che per assurdo sono gelose della bissa è assurdo ma è così quindi no è molto è un'attività molto particolare negli anni mi sono accorto io sono sette anni che ho iniziato quindi sono molto giovane di questa attività per assurdo perché ci vogliono veramente tanti anni per imparare mi sono accorto ho preso il comando del gruppo io non è nella mia indole cioè non è nel mio carattere prendere questa posizione ma ho dovuto farlo perché appunto c'è questa armonia con il territorio con il lago il lago è un po' il nostro diciamo la nostra madre cioè quando noi facciamo questa attività all'interno sulla barca quando usciamo appunto al buio deve esserci armonia e a volte l'armonia non va d'accordo con la democrazia quindi cioè in questo caso l'armonia si crea con delle regole fisse che vengono dettate dal capobarca di fatti Giustizio mi insegni che dalla storia della Bissa c'è un capobarca che viene eletto dai rematori e che cerca di mantenere questa armonia perché le tensioni i nervosismi che possono anche venire dal mondo esterno cioè da prima dell'allenamento da come i ragazzi arrivano la sera quando dobbiamo uscire io tutte le volte chiedo come stanno vedo guardo gli occhi per capire perché altrimenti viene compromesso tutto l'allenamento perché sono è molto delicato quindi e loro al loro canto dal loro canto hanno bisogno di questa cosa cioè hanno bisogno di questo equilibrio quasi non ne possono fare a meno cioè diventa proprio una come posso chiamarla lo sai meglio tu che con le parole sai molto più di me insomma è una bellissima una bellissima cosa nel territorio sì noi ci spostiamo su tutti i comuni del lago quindi abbiamo modo anche di vivere meglio tutte le comunità anche io che sono nato qui comunque non conoscevo tantissime realtà del lago di Garda che è meraviglioso cioè ci sono delle zone stupende sia dal lato bresciano che da quello veronese c'è una passione una cura per il territorio ogni comune appunto lavora per mantenere questa la tradizione quindi è molto bello anche il campionato cioè vivere il campionato spostarci su tutti i comuni il lago non è mai uguale quindi ogni gara è diversa il campo di regata che prepara Nunzio è lui che prepara il campo di regata quindi mette le boe a distanza di 350 metri sono sei boe che devono essere tutte qui distanti non è semplice perché il fondo ne parlavamo ieri sera il fondo del lago è diverso in ogni in ogni comune quindi lui deve mettere i pesi in base alla corrente ai venti alla profondità quindi lui conosce il fondo del lago perfettamente cioè lui sa secondo me anche dove sono i sassi sul fondo del lago perché se no sarebbe impossibile fare quello che fa lui quindi andiamo avanti con fatica rispettando le persone come Nunzio che hanno portato avanti con tanta energia e tanta passione negli anni quindi noi facciamo altro che portare avanti questa tradizione ecco grazie scusa una domanda nei nostri viaggi nei nostri viaggi ci stiamo rendendo conto di come anche attività tradizionali anche attività molto fisiche come come la vostra si stia aprendo al mondo femminile e non potrebbe essere diversamente perché tutto si sta giustamente aprendo anche al mondo femminile come lo state vivendo io so noi sappiamo la settimana scorsa eravamo a Mede per un seguire un altro progetto e avevamo l'equipaggio di Bardolino l'equipaggio che lo conoscerete molto bene e ci ha descritto una situazione a volte molto critica adesso meno ma quando era partito tutto questo progetto del loro equipaggio e dell'equipaggio femminile degli equipaggi femminili in genere non era ben visto da perlomeno da alcune dalle dirigenze della Lega Bis la situazione adesso com'è allora in realtà la criticità sta nell'avvicinarsi al mondo delle bis cioè non è una questione di sesso cioè è molto complicato avvicinarsi voler far parte di questa comunità nel senso anche io quando ho iniziato ho fatto mesi a chiedere informazioni l'avrete passato anche voi perché anche voi che avete voluto fare una ricerca non è stato facile entrare a parte qui a Desenzano dove per il mio modo di vedere siamo molto aperti a queste cose per il resto della comunità non è così semplice quindi non è stato secondo me un problema legato alla donna che entra nel mondo della Bissa quanto appunto a farne parte cioè è un gruppo molto chiuso non accoglie facilmente anche ogni singolo gruppo parla di voler trovare nuovi rematori ma in realtà trovarli è complicatissimo loro lo sanno perché chi come annunzio ha remato per tanti anni sa che è molto difficile trovare l'elemento che possa salire sulla barca quindi ce n'è già un numero molto limitato non è una cosa che si può aprire a tutti perché ci vuole equilibrio molta forza sensibilità spirito d'aggregazione umiltà se no non c'è non trovare tutto in un'unica persona è veramente complicato quindi secondo me è stato difficile per loro prima di tutto approcciarsi a questo mondo dopo in realtà le donne hanno il loro spazio hanno il loro campionato femminile io ho provato sulla mia pelle che non è semplice perché ho voluto creare due anni e mezzo tre anni fa il gruppo femminile ad Esenzano poi mi sono accorto che dovevo trovare prima di tutto una leader come nel caso mio che si facesse carico perché comunque il linguaggio come ti poni comunque non è semplice cioè ci vuole una persona che si fa capo di portare le donne fuori perché comunque ripeto usciamo di sera a buio su una barca quindi il fatto anche di uscire con una donna sul lago sull'acqua così comunque ci vuole tatto e complicato non è una cosa così semplice me ne sono reso conto quindi sono sempre alla ricerca adesso di una persona una donna che voglia farsi capo di questa responsabilità per creare il gruppo ad Esenzano perché per me per me è giusto cioè è giusto aprire più che si può quindi nuove rematrici ti facciamo mettere un po' di bicipiti Francesca poi ci sei perché d'altronde si vuole forza il gruppo di Bardolino per esempio è un gruppo che si allena tanto sono rematrici forti cioè hanno molta passione quindi insomma ecco il problema secondo me è stato quello proprio l'approccio al mondo delle bisse perché comunque non vedo preclusioni alle donne assolutamente e poi la difficoltà che hanno incontrato loro a creare anche il loro gruppo e il loro campionato perché comunque io vivo nelle riunioni io sono presidente della remiera di Desenzano quindi partecipo alle riunioni e anche creare il campionato parallelo per le donne spesso con tutte le problematiche che giustamente ci sono anche non è semplice insomma hai capito quindi comunque è aperto ovviamente l'attività è aperta anche le donne tra l'altro sono agguerritissime no? C'è una c'è una 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 forza un perfezionismo incredibile quindi un'esigenza però è vero che c'è questa necessaria chiusura la chiamerei perché è così difficile è così esigente però allo stesso tempo il territorio per voi si rappresenta in voi cioè significate moltissimo per questo territorio per questi paesi cioè le bis sono un'espressione condivisa dalle comunità adesso ecco no no questo è molto è molto importante ecco su questo adesso dobbiamo lasciare la parola alla prossima comunità siamo perfettamente in orario e guardo Giuseppe sì dai cinque minuti via siamo perfettamente quasi in orario e avremo anche preparato anche i suoni perché abbiamo però non so se lo facciamo alla fine magari a questo punto l'idea era all'inizio per aprire l'atmosfera diciamo con i suoni proprio di queste attività e anche delle vostre voci lo ascolteremo lo ascolteremo in finale quindi salutiamo tanto con le bisse restiamo perché grazie grazie a tutti